La non abolgia è un vero e proprio mattatoio, tant'è che Dante ci dice che non può raccontare tutto, tanto è nauseante la vista, però impiega 5 terzine a raccontarci di corpi mutilati, dilagnati, straziati e addirittura con l'interiore che escono di fuori. Chi sono costoro sono coloro che in vita si macchiarono della colpa di seminare discordia e di dividere ciò che naturalmente deve restare unito non solo in politica. E allora passerà a segno una serie di personaggi, qui non abbiamo il tempo per raccontarli tutti, raccontiamo il primo e l'ultimo, i più significanti. Il primo, pensate, che è scuoiato dalla gola fino al deretano e che lo descrive così, sentite, rotto dal mento fin dove si trulla, dove si trulla è un modo medievale per dire dove si scorreggia, e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia, si vede addirittura l'intestino penzolante. Chi è, pensate, è Maometto. Dante ha informazioni sbagliate su di lui, crede che sia un cristiano che per non essere giunto al soglio pontificio vuole dividere il cristianesimo. Non è così, è il fondatore di un'altra religione e però lo descrive in questo modo, come la grande legge del contrapasso che ci racconta qui il nostro poeta, ossia tu hai voluto dividere il cristianesimo, noi ti abbiamo diviso il corpo in due. Poi tanti personaggi rassegna, qualcuno mutilato, qualcuno con i moncherini, uno senza lingua, uno senza naso, ma si arriva a tal Bertrand de Born, che cammina con addirittura la sua testa in mano, e questa testa che è in mano guarda, ascolta e parla. Chi è? È colui che ha inzato Enrico III contro Enrico II in Inghilterra, ossia colui che ha voluto mettere il figlio contro il padre, e chi divide un'unione forte come padre e figlio non merita altro che la ghigliottina. È un canto che diremmo oggi, splatter, da film horror. Andiamo avanti perché adesso l'inferno diventa veramente molto, molto buio.